Tutto questo a noi fa venire la perplessità che anche togliere le auto da questa piazza sia una di quelle progettazioni che perché sia seria necessita perlomeno di compensazioni. I lavoratori, gli abitanti che hanno le auto qui, dove le portano? E' questo l'interrogativo cruciale che i residenti del centro storico di Fano si domandano dopo la notizia della riqualificazione di piazza Marcolini che da attuale parcheggio diventerà, come vedete da questo rendering, uno spazio all'aperto con una nuova pavimentazione, panchine e altre installazioni. Con questo intervento verrebbero rimossi una trentina di posti auto con non poche difficoltà per i residenti ma anche per chi lavora all'interno del centro città. Ci sono le macchine che usano delle persone normali per andare a lavorare, per portare i figli a scuola, per portare le persone anziane dal medico e quindi c'è la vita normale di una zona normale, di una città normale che dovrebbe continuare a mantenere la propria normalità contro delle visioni sempre più autoritarie che invece vogliono trasformare la città in una serie infinita di salotti. Noi comprendiamo e non ci opponiamo ai cambiamenti fisiologici della città, spiegano alcuni residenti, ma è importante agevolare anche i cittadini, le famiglie e le persone anziane. Chi amministra non può trattare da sudditi le persone che vivono in questi luoghi. Già l'anno scorso, il 24 luglio, fumo chiamati e ci si disse che Piazza Marcolini veniva trasformata, si abbattevano gli alberi, eccetera. Poi ci si accorse che la soprintendenza non era d'accordo, che la cosa non era possibile. Il piano è stato modificato tre volte, che significa che ci sono dei tecnici che il loro lavoro lo sanno fare in un modo discutibile. In metà degli anni 90, stiamo parlando del 1990, l'assessore Branca presentò il primo progetto di parcheggio sotterraneo sotto la caserma. Sono passati 30 anni, a questo nessuno ci pensa, ma non solo il progetto lì. In tutte le altre parti della città i parcheggi non ci sono. Beh, signor Sindaco, si svegli perché noi siamo non dei sudditi, dei cittadini con dei bisogni molto precisi e lei è lì per dare delle risposte. Ma le soluzioni ci sarebbero, proprio come ci spiega l'ingegner Giovanni Uguccioni, che ha girato diverse città italiane nel corso degli anni. Quasi tutte le città, penso, fanno sia un caso unico, permettono a chi è residente pagando una tassa annuale di parcheggiare nei parcheggi blu. È stata fatta questa richiesta al Sindaco e ci è stato risposto, ma stiamo studiando, ma per ora non è possibile. Non è possibile perché siete troppi e chi ci abita ed è contenta di abitarci deve avere la possibilità di portare i genitori, di spostare, di portare i figli. Qui è un problema grossissimo, quindi togliere ulteriori posti in macchina dalla piazza Marcolini, quando già il resto della città soffre, secondo me è un ulteriore peccato mortale.